Con un'incognita. È evidente che se le raccomandazioni dei piani sono molto light, voglio dire molto generiche, e le regioni hanno piena autonomia nella fase di gestione e organizzazione della sanità, in questo caso della campagna vaccinale, è inevitabile che noi poi assistiamo alle diseguaglianze sia di copertura sia di categorie, come stiamo vedendo sostanzialmente in questi giorni. Ancora una volta quindi, dobbiamo fidarci della loro parola, perché il governo può suggerire, può raccomandare, ma non può imporre la campagna vaccinale alle regioni.